Buongiorno a tutti, sono Diego Negrotti, sono il coordinatore del comparto Work della cooperativa El Cerchio. Oggi sono qui per presentarvi il nostro servizio di sanificazione e disinfezione ambientale. In questo periodo come potete immaginare con l'emergenza sanitaria in corso questo servizio ci viene richiesto notevolmente e da un rilievo importante. Stiamo parlando del coronavirus, è un virus influenzale, come tutti i virus influenzali si trasmette in due modi. La via primaria è il contatto con la persona infetta attraverso le goccioline del respiro della persona, mentre la via secondaria è il contatto con le superfici contaminate. Le evidenze scientifiche ci dicono che questi virus influenzali possono permanere sulle superfici per del tempo, non ci sanno dire esattamente quanto ma possono permanere sulle superfici. Ci dicono anche che possono essere inattivati o disintegrati con dei processi di sanificazione. Il Ministero della Salute ci indica con la circolare 54-43 del 22 febbraio del 2020 tre presidi da utilizzare che sono l'ipocolorito di sodio, l'etanogluo o il prossimo di idrogeno. Con queste procedure possiamo riuscire a decontaminare gli ambienti. La nostra società, la Cooperativa Il Cerchio, che da anni lavora nel settore della pulizia professionale, civile e industriale, si è attrezzata e in questo periodo riesce a garantire questo servizio alla comunità attraverso dei processi sia manuali che meccanizzati. Se avete bisogno dei nostri interventi, non abbiate timore, contattateci. Siamo reperibili 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Preventivi e soprologhi sono gratuiti, perciò contattateci.